Federico Volpi, un gol, una presenza costante nell'area di rigore avversaria in questa partita. Come giudici la prestazione da parte del Cotini Stefano Gomme in questa seconda di campionato? Oggi dovevamo riscattarci dall'eliminazione della Coppa Italia e dal passo falso nella prima giornata. Penso che abbiamo reagito sul campo, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Il risultato è un po' bugiardo perché ovviamente potevamo chiuderla molto prima rispetto a come è finita quella partita. Il Cotini è passato in vantaggio dopo 15 minuti, eravate già 2-0. Sembrava una partita che avrebbe dovuto scorrere tranquilla fino alla fine, invece avete subito gol a 10 minuti dalla fine. Avete sofferto, comunque è la prima vittoria in campionato, una vittoria rassicurante anche per gli obiettivi futuri. Certo, ovviamente l'importante erano i tre punti, proprio per tirare sul morale della squadra, per ringraziare il nostro presidente per tutto quello che sta facendo per noi. Ovviamente non dovevamo rischiare gli ultimi minuti perché poi i punti fanno la differenza. Perfetto, grazie.